Il partenariato perfetto perché stamattina abbiamo, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo sulla riforma del codice degli appanti, che è una bellissima riforma, magari potessimo parlare, scendono da 660 a 217 articoli, sono articoli più snelli, più veloci, stop al massimo riba, sono una serie di cose veramente importanti per far funzionare gli appanti pubblici, fra cui una riforma del partenariato prevedendo questa cosa che da noi, poi insomma tutti facciamo una tesi su questo, quindi mi sembra molto bene, era uno strano tipo di partenariato, cioè quello in cui l'imprenditore faceva il progetto ma la garanzia era pubblica, quindi insomma si faceva come dire il rischio operativo e così chiama, era parte accollato dal, sono buoni tutti a fare gli imprenditori così, ecco, con il decreto legislativo si interviene anche con il trasferimento del rischio operativo al soggetto privato e alla modifica di alcune procedure che secondo noi daranno nuova spinta al progetto di partenariato pubblico privato e in parte anche sui progetti, quindi ti invito se non l'hai già fatto, testo non credo sia pubblico ancora, a monitorare l'idea che il decreto legislativo fa, che è adesso uscito dal Consiglio dei Ministri, trasmesso dal Consiglio di Stato al Parlamento che ha due mesi per fare osservazioni, poi rientra da noi e lo approviamo in via definitiva. L'approviamo il Consiglio dei Ministri in via definitiva. Liquidità, Europa non è un flash, ma lo sarà comunque, liquidità è una delle cose che diceva al sindaco, uno dei sindaci intervenuti, sì, il passaggio dal patto di ristabilità alla regola del pareggio liberando la cassa da una serie di gradi di libertà in più alla gestione della liquidità, il punto vero se ho capito bene poi è che in questo Paese tutti i livelli di governo devono pagare in tempo, questo è il punto, quindi anche da parte dello Stato e delle regioni ci deve essere, perché è lì sì che si bloccava il meccanismo, in fondo ci sono i comuni che qualora scontavano ritardi nel pagamento da parte delle regioni a sua volta poteva dire no, non mi paga lo Stato, alla fine tutto veniva, adesso questo in parte è stato risolto con l'esclusione della cassa dal sistema dei vincoli, però rimane un altro prezzo, cioè comunque se lo Stato e la regione non pagano in tempo, e su questo abbiamo visto il Presidente Bonaccini l'altro ieri a Palazzo Chigi a Costituzionale dei Vincenti, su questo ci sono impieghi specifici da parte del governo e delle regioni, voglio perché un altro giochino è quello di scaricare, non lo diresti davanti a Stefano Bonaccini? No, lo direi, non è un pallo di riviera un agno, le regioni sono sempre in posizione comoda, perché possono scaricare sia su che giù i problemi, però ovviamente non è il caso di questa regione. La cultura finanziaria, l'ultima domanda, il problema delle banche era posto qui, servirebbe un'altra iniziativa, è un flash, a me piacerebbe lo scritto, l'ho detto da tempo, ormai nelle scuole per fortuna si insegna tutto, forse non abbastanza, l'educazione civica non abbastanza, eccetera, beh insomma, visto che siamo, se voi guardate le classifiche Ocse, l'ultimo paese nell'area Ocse per educazione finanziaria e l'87% degli italiani non sa cosa è il in, l'87% degli italiani, a me piacerebbe che nelle scuole si insegnasse educazione finanziaria, vuol dire che devi andare al liceo classico o ai studi tecnici a spiegare i derivati, no, vuol dire che devi spiegare cos'è un mutuo, qual è la differenza tra un mutuo a tasso fisso e un tasso variabile e come si spendono i propri risparmi, non so, abbiamo messo tanto nell'offerta educativa delle scuole, costa tanto mettere questo, perché è un cittadino che sa come spendere i propri risparmi, poi ci sarà sempre bisogno di aiuti esperti, io di arte non capisco nulla, io non comprerei mai un quadro perché non capisco nulla di arte, mi faccio consigliare da uno di cui mi fido, quindi il problema della fiducia è comunque ineliminabile, però l'alfabetizzazione, distinguere fra un'azione e un'obbligazione, lo vogliamo insegnare anche a chi non studia economia, insomma, nelle scuole, quando ero assessore con i sindacati, testimonianza con i sindacati, ho sempre avuto un rapporto complicato, non è un segreto, ma a volte, insomma, i sindacati hanno iniziato un percorso per fare corsi di educazione finanziaria agli anziani, con lo SPI, insomma, quindi per spiegare gratuitamente agli anziani che cos'è, quindi io credo molto in quello genere di... la Banca d'Italia ha iniziato a farlo in alcune scuole, ma io, insomma, piacerebbe che fosse una cosa obbligatoria, poi io non mi sogno neanche di neanche solo l'ammire l'argomento, il tema è più ampio nel senso che come si fa a evitare che ai sportelli la gente dia informazioni impiegate, ma anche dia informazioni sbagliate, perché non puoi, per quanto puoi fare educazione finanziaria, non potrai formare 60 milioni di esperti finanziari, qui sono tante cose da dire, dico solo questo, ma perché i colloqui in cui si vendono strumenti finanziari non sono registrati? Facciamo che così come lui mi sta registrando, verrà usato contro di me in tribunale, quando io consulente finanziario vado al vecchietto, viene da me per investire la pensione, io registro, così vediamo se io ho detto se quella è un'obbligazione subordinata o meno, perché se quella, se io non ti ho detto che era una subordinata, tu devi avere tutti i tuoi soldi indietro, secondo il mio parere, secondo i pareri che verranno probabilmente iscritti nel decreto ministeriale dell'imborso ai cittadini truffati dalle quattro banche, ma se io ti ho detto tutto e tu non hai capito, non hai affermato così, ragazzo mio, non è che tu fai l'investimento, tu tagli e poi ti devi pagare lo Stato, e se ci guadagnavi e versavi i soldi allo Stato, cioè attenzione, occhio, dopodiché il tema di quelle quattro banche è enormemente più complesso, io ne conosco bene una, quella di Ferrara, e se volete un giorno ne parliamo.